Il nostro è uno sport meraviglioso, ma ammettiamolo, è complicato, ragazzi. Il soccer, come lo chiamate voi, è come la vita. Nella prossima stagione siamo tra i favoriti. Mi dispiace, Thomas, nessuno ti ha avvertito. Tu sei esonerato. La buona notizia è che hai due opzioni. Opzione 1, la situazione in cui sei ora. Oppure le Samoa americane. Fate sul serio. Non abbiamo segnato un gol nella storia del nostro paese da quando cerchiamo di avere una squadra di calcio. Gol! Ancora un altro! Che umiliazione! Ma ascoltatemi bene, le cose stanno per cambiare. Sto per assumere un nuovo coach. Qualcosa da bere? Whisky, birra, vino? Sì, li abbiamo tutti. Quale? Whisky, birra e vino. Mi sento di dire che non avete talento né comprensione del gioco. Quello ha qualcosa che non va. Sì, è bianco. Allenatore, hai il lavoro più costo di tutta l'isola. Voglio solo che la squadra segni un gol. Un gol. Ti ragazzi! Abbiamo lavorato fin troppo per questo. Sei qui solo da qualche giorno. Ma che... Non posso lavorare con loro. È come se fosse una sorta di gioco. Ma è un gioco. Sì, già, è ottima leadership. Facciamo progressi. Dio, signore. Grazie per averci mandato il signor Rongen. Ci siamo affezionati molto a lui. È stato come trovare un ragazzo bianco smarrito al centro commerciale e dirgli da che parte andare. Perché c'è solo me.